Il problema dei passaggi a livello a Vittoria. Attraversamenti della linea ferrata che bloccano il traffico viario in entrata ed in uscita. Ancora in primo piano a Vittoria la questione della ferrovia. I rappresentanti della CNA hanno incontrato l'assessore provinciale alla viabilità, Salvatore Minardi. In passato avevano fatto richieste precise anche al Comune e dal gruppo Ferrovie dello Stato. Ora arriva una proposta concreta. Il presidente della CNA, Giuseppe Santocono, ed il responsabile organizzativo territoriale, Giorgio Stracquedanio, spiegano che nella parte alta di via Marangio, nei pressi dell'ospedale, c'è un piccolo ponte che permette di superare la linea ferrata. A quest'ultimo segue una trazzera che si collega direttamente alla strada statale 115. La CNA propone di riqualificare con una piccola spesa la zona, creando una rotonda nella 115 ed una piccola bretella che si collega con via Rosario Giurato. Tutto questo potrebbe realizzarsi con fondi del programma operativo FESR 2007-2013, asse 4 per lo sviluppo urbano sostenibile. La proposta della CNA è stata lanciata. Una possibile soluzione per un problema antico e difficile, che ora attende risposta da chi di competenza.